Abbiamo attuato oggi un controllo straordinario del territorio, ci siamo avvalsi della collaborazione del nostro nucleo elicotteri che sono stati molto preziosi in questo frangente. Abbiamo utilizzato anche unità cinofile con due cani addestrati nella ricerca per la sostanza stupefacente e anche altri uomini della compagnia, il comandante della sezione operativa e anche altri carabini di quartiere come vede, il radiomobile. È stata una bella iniziativa, abbiamo ottenuto anche un ottimo risultato perché abbiamo arrestato una persona per il possesso di sostanza stupefacente, in questo caso aveva delle piante di marijuana e comunque abbiamo effettuato anche di numerosi controlli su strada e andando molto molto bene. Quindi sono una giornata all'insegna della sicurezza, sappiamo che Bassano del Grappa è una città abbastanza sicura, però insomma le cronache degli ultimi tempi invece dimostrano come a volte ci siano degli efferati crimini che veramente un po' fanno pensare a una città che se nella microcriminalità potrebbe essere abbastanza circoscritta, però a volte appunto ci sono questi episodi che ci fanno ricredere, comandante, è vero? Sì, possono farci ricredere, noi attuiamo appunto questi controlli, queste azioni di contrasto dove dimostriamo alla fine con i risultati che le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri sono presenti sul territorio e sono sicuramente incisivi.